Isola dei famosi, i concorrenti hanno trasgredito a un giorno. Isola dei famosi 2023, i naufraghi hanno infranto le regole. Arriva il primo provvedimento. Prima di continuare ricordati di iscriverti al canale se ti fa piacere e lasciare un like. All'Isola dei famosi 2023 è già tempo di un provvedimento. I naufraghi hanno infranto una delle regole del gioco. Ecco quale è stata la loro punizione. All'Isola dei famosi 2023 è già arrivato il momento del primo provvedimento. Nei confronti dei naufraghi, alcuni concorrenti, in particolare i componenti della tribù delle coppie, hanno infranto il regolamento. Al momento di accendere il fuoco, si sono fatti aiutare da membri di altre tribù. Comportamento vietato, come era già stato chiarito da Aloy Blasi, nel corso della prima puntata del reality. Isola dei famosi 2023, il provvedimento. I naufraghi hanno ricevuto la pergamena che comunicava il provvedimento. Claudia Motta si è premurata di leggerlo ai suoi compagni di avventura. Il comunicato recitava. Lo spirito dell'Isola vi osserva sempre. Le regole erano chiare e tra queste c'era il divieto di aiutarsi tra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse. Quindi verrà immediatamente spento. Le proteste dei naufraghi Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchipaone, ha protestato rispedendo le accuse al mittente. L'idea è partita dalla mia tribù, da Fabio, e poi ha dato un grandissimo contributo. Il sistema polmonare di Paolo. Andrea è stato semplicemente a guardare. Ha solo assistito. Quindi, se c'è una direttiva chiara sul fatto che le regole siano state infrante rispondo. Su questo no, mi spiace. Non ci ha aiutato nessuno. La regia, tuttavia, ha mostrato le immagini di Andrea Locicero che dava una mano. Ad accendere il fuoco. Anche Luca Vetrone ha ammesso di avere aiutato i componenti dell'altra. Tribù nell'ardua impresa. Iscriviti al canale per altre news e se ti fa piacere lasciami un like.